Proprio domenica scorsa Papa Francesco durante il Reggina Celia aveva posto l'accento sul rispetto della dignità dei lavoratori. Lo stesso rispetto che chiedono i lavoratori degli uffici del lato Messina 2. Hanno intrapreso una protesta a oltranza minacciando lo sciopero della fame. Si sono incatenati davanti ai cancelli della sede dove prestano servizio. Non percepiscono le loro spettanze ormai dal 2012 e sono stanchi di promesse e impegni non mantenuti. Ormai siamo arrivati a quattro anni. Quattro anni purtroppo vissuti male. Adesso non si poteva fare altro che fare quest'ultima manifestazione per cercare di avere l'attenzione da parte delle istituzioni che fino ad oggi sono state assenti. Io mi permetto ancora di fare due appelli. Uno ai nostri soci, i sindaci di questo territorio e l'altro al governo Crocetta che mantenga quelli che sono stati i suoi impegni di qualche settimana fa. Il governatore Rosario Crocetta in visita alla prefettura di Messina aveva incontrato i lavoratori nel febbraio scorso rassicurandoli. Da allora oggi però niente di nuovo sotto il sole. La promessa l'ha fatto proprio l'8 febbraio. Il Presidente della Regione ha detto proprio a me, ha promesso che risolveva la situazione, che faceva anticipare questi soldi dai 38 comuni soci. Io ho detto, Presidente quanto passa? Mi ha detto, signora, aspetta da quattro anni, non può aspettare due ore che arrivo a Palermo. Ma sono trascosti due mesi da quelle due ore. E lui continua a non fare nulla. Né lui né i sindaci soci che capiscono ciò che stanno facendo perché ci hanno tolto vita e dignità. Abbiamo perso la salute, abbiamo perso tutto. Non abbiamo niente più.